Le famiglie di via Bettino-Ricasoli sono ormai esasperate per i disservizi idrici. I rubinetti continuano ad essere a secco per circa 10 famiglie, composte anche da bambini e anziani, nonostante le continue segnalazioni all'ente Caltacqua, che gestisce la distribuzione idrica in città. Dopo la segnalazione fatta alla nostra emittente e il servizio giornalistico realizzato i primi di aprile per il nostro Tg, i tecnici hanno provato a verificare il motivo del disservizio, senza però venirne a capo. Da quasi due mesi abbiamo sempre lo stesso problema, andiamo a letto con l'ansia e ci svegliamo con l'ansia di non trovare l'acqua. E infatti non c'è acqua, c'è una settimana intera che qui non arriva, anche se è arrivata là sotto proprio in fondo, perché la strada è insalita, ma è arrivato a metà strada, poi non arriva. L'ultima volta è arrivata a 10 minuti, perciò in 10 minuti non possiamo noi garantirci nuovamente la cisterna piena, i serbatoi, non ne possiamo più. Inutili gli interventi dei tecnici? Sì, poco fa è venuto un tecnico, però ha detto fin quando ha constatato che non c'era acqua, fin quando non arriva l'acqua non possiamo vedere se c'è qualcosa che non va, ma qualcosa che non va. Io per esempio sono passata adesso da San Giacomo, sentivo i motorini tirare l'acqua. Nelle strade a 10 anni c'è l'acqua, perché qua non arriva? O se arriva, arriva fino a un certo punto, per pochissimo tempo. I residenti sono veramente arrabbiati e minacciano di non pagare più le bollette per un servizio di cui non possono soffruire. Il problema già persiste da più di un mese che comunque l'acqua qua da noi non arriva. Come le dicevo, è andata a finire come se riceviamo l'uovo di Pasqua. Chi lo trova la sorpresa e chi no. Cioè è una cosa inconcepibile, perché l'acqua non è né lemosina, né regalata e né niente. La paghiamo normalmente come tutti, quindi non capisco se c'è un problema di risolverlo. È più di un mese che noi facciamo sollecite a Caltacqua. Da anno la segnalazione, per carità, stamattina è venuto quello di Caltacqua, è venuto a guardare. Però ancora adesso tutto spendo. Anche la gente che l'ha ricevuto negli altri giorni, però non sentiamo i motorini. Condutto con i motorini qua l'acqua noi non la vediamo. Una situazione insostenibile che si trascina da metà marzo e che non vede ancora la luce in fondo al tunnel. A complicare ulteriormente la situazione già precaria, l'aumento delle temperature, che renderà ancora più difficile la situazione in via Bettino-Ricasoli. Non se ne può più. Siamo ancora senza acqua, rubinezzi a secco. Compriamo le casse dell'acqua pure per lavarci, per i servizi igienici. Strade adiacenti hanno l'acqua, noi no. Paghiamo il canone regolarmente, sia loro che noi, però cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non se ne può più. Adesso non potete più andare avanti così, anche perché con l'avvicinarsi dell'estate la situazione si fa veramente critica. Assolutamente, la situazione è pesantissima. Anche perché, ripeto, non si può fare caldo. A casa, il minimo è indispensabile. La mattina ti svegli e non trovi acqua nei rubinetti. Abbiamo segnalato un sacco di volte. Stamattina è arrivato il tecnico, gentilmente. Si è messo al lavoro, ha controllato, ma tuttora non abbiamo acqua. L'erogazione arriva, teoricamente, a giorni alterni. Però noi non riusciamo neanche a giorni alterni. Grazie. 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 Grazie.